segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te hai fatto tu stessa l'esempio dei tassisti allora anche qua sono anni che si parla di mettere nuove licenze ci sono sempre prorogo e l'ultima di pochi mesi fa quali sono le conseguenze l'articolo che riguarda la necessità di aumentare le licenze ai tassisti è stato stacciato proprio per la rivolta dei tassisti quindi non se ne parla più il tema è che da 15 anni le licenze sono sempre le stesse non sono aumentati non sono aumentati neanche nelle grandi città dove tra l'altro il l'assessore ai trasporti ma giusto due o tre anni fa c'è diede anche dei parametri vale a dire le le chiamate dalla mattina dalle 8 alle 10 è in evaso non si riesce ad evadere tipo il 15 per cento delle chiamate che il sabato e la domenica dalle 5 alle 7 arriva al 30 da mezzanotte alle 5 arriva al 40 quindi c'è veramente una grande necessità c'è la necessità di mettere ordine nelle piattaforme online tra l'altro tutto questo è rimasto di fatto lì e quindi viva gli abusivi perché poi questo è anche perché dicevi giustamente alla fine ogni volta che si è tentato di intervenire al di là che l'intervento fosse giusto o sbagliato ci sono stati scioperi selvaggi questo lascia pensare che in un paese del genere chi alza la voce vince in qualche misura vince sempre chi alza la voce se gli si concede di vincere bisogna anche saper tenere duro e saper negoziare alla fine